Ho pensato che eri morto, e ho iniziato a piangere, piangevo, e la gente usciva dalle stanze, ero lì in mutande, pensavano che fossi pazzo. Mi dispiace per quello che è successo, ma io ti giuro che non sono venuto qua per vederlo. Buge alto, tu sei venuto qui apposta. L'abbiamo deciso insieme di venire qua. Basta, veramente pensi che io sia così cretina? Io volevo solo sapere se lui stava bene. Se stava bene. Anche questo te l'ha chiesto il questore. Pensi che ti darà una promozione? Che cazzo ridi. È assurdo che noi due... Noi due.